L'ospedale unico si farà a Muraglia e il Santa Croce diventerà una struttura privata. Questa è la verità e il sindaco Seri continua a prenderci in giro. È il pensiero dei consiglieri d'opposizione Santorelli, Garbatini e Del Vecchio che mettono in allerta i cittadini considerati spettatori, secondo loro, di un film targato Partito Democratico. Il PD con Matteo Ricci e Ceriscioli è il regista di questa operazione della chiusura dell'ospedale Santa Croce e del nuovo ospedale a Muraglia. Hanno preso in giro tutti per un anno durante la campagna elettorale per le regionali e gli attori protagonisti di questa operazione sono i fanesi Renato Claudio Minardi e Stefano Marchigiani che hanno di fatto venduto la partita al PD provinciale e al PD regionale per garantirsi le posizioni di potere, soprattutto Minardi che ha avuto l'elezione in consiglio regionale che è assolutamente facilitata dal PD e la nomina al vicepresidente del consiglio regionale. Di tutto questo ovviamente subisce le conseguenze della città di Fano e che ha un sindaco che è assolutamente la torre non protagonista di questa partita. Siamo stanchi di essere presi in giro e soprattutto è bene che la città di Fano conosca i veri responsabili della chiusura di Santa Croce. Per i consiglieri di progetto Fanoi Udc la battaglia su Chiaruccia è solo un fumo negli occhi che l'amministrazione starebbe mettendo per far concludere l'operazione al PD. E in questa sceneggiata per l'opposizione la maggioranza fanese ha fatto da comparsa ed è stata messa all'oscuro di tutto. Hanno già deciso durante l'estate, durante la campagna elettorale che rimarranno due ospedali a Pesaro in buona sostanza, San Salvatore e Muraglia e le cose, le specialistiche, comunque medicina che è molto importante che ha Fano verrà trasferita ovviamente a Pesaro. Questo sarà veramente deleterio e molto dannoso per tutto il territorio. Si dovrà sobbarcare viaggi per andare a Pesaro. A quel punto io penso che anche la mobilità passiva aumenterà perché poi la gente inizierà a decidere se andare a Pesaro oppure andare in Romagna dove ormai sono nati come funghi ospedali che fanno assistenza anche dal punto di vista, ad esempio, della medicina. Anche per Aramis Garbatini mancano azioni concrete da parte di questa giunta. Dice sempre di fare delle battaglie per portare all'ospedale Chiaruccia ma di fatto non fa niente. L'incontro con i sindaci della Vallata non l'ha mai convocato. Noi abbiamo chiesto un consiglio monotematico sulla sanità ormai da diverso tempo e lo ribadiamo tutti i giorni sia al Presidente del Consiglio che agli esponenti della maggioranza e non viene mai fatto. Questa è dimostrazione che il sindaco fa solamente dei proclami di finto bonismo per fare i suoi comodi e comodi del Partito Democratico di Fano all'insaputa e con una presa in giro per tutta la città. Smetta di prendere in giro la città, faccia atti concreti e se non riesce a gestire e a programmare quello che ha promesso in campagna elettorale faccia un passo indietro e dia le dimissioni.